Siamo con Onora Villa, post partita contro Sangha, ennesima delusione, però per tirarti su di morale ti dico due cose. La prima è che non c'è delusione nel cuore di chi lotta e voi avete lottato, non stavate nemmeno troppo bene. E la seconda è che comunque è stagione regolare, non è playoff. Veniamo infatti da una settimana in cui per certi vari, alcuni, un po' condizioni di malessere generale non eravamo al top. Però diciamo che dal primo minuto noi cerchiamo sempre di lottare perché sappiamo che qua di Sangha è una squadra completa, una delle più esperte del campionato. E quindi diciamo che abbia lottato dal primo minuto, poi prendiamo episodi vari, un po' di sfortuna, riusciamo sempre a stare lì fino alla fine e avanti e poi perdiamo sull'ultimo. Però credo che queste due sconfitte, nella stessa maniera, ci danno una carica immenza per avere la nostra rivincita nel più importante. Ecco, voglio chiudere con un proverbio anni Ottanta, ride bene e chiede ultimo. Esatto, speriamo sia così. Grazie a tutti.